Avete riconosciuto questi sportivi? Ma certo, sono quattro tra i più celebri allenatori calcistici. Rocco, Suarez, Fabri, Vinicio. L'unice per piacere, passami il pane, dai. Eh, non è mica tanto facile. Con questo centrocampo viene di bottiglie. Ci vorrebbe il lancio lungo, vero Egitto? Ce l'hai? Fra i tuoi ragazzi uno che lancia lungo, come te. Beh, se non c'è, cercherò di intentarlo. Guardate che per fare un bel lancio ci vogliono forza, precisione e intesa col compagno. È come avere un appuntamento con un'altra persona su un punto prestabilito. Adesso andiamo e proviamo. Via! Adesso ti faccio vedere io come si fa. Vai! Complimenti, Luis. Veramente un magnifico lancio. Non vale. Tu sei l'allenatore. Ah, quasi quasi. Sentendo questi complimenti mi viene volo di tornare a giocare. Guarda, io passo per un gerontofilo. Ti ingaggio io. Facis ha le misure di tutti. Lo provano quattro celebri allenatori. L'alto Vinicio, il piccolo Fabri, lo snello Suarez, il robusto Rocco. Vinicio taglia 52 normale extra lungo. Fabri taglia 52 mezzo forte corto. Suarez taglia 48 snello extra lungo. Rocco taglia 58 forte lungo. Facis ha le misure di tutti. Non ci credi? Chiedi un Facis anche tu nei negozi che espongono questo marchio.